Ciao amiche, ciao amici, vi diamo una meditazione per attrarre la persona che ti piace. Questo video per rispondere a Gemma che mi segue su YouTube. Mettiti in una posizione comoda, con la schiena eretta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate, e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre ascolti il suono della mia voce, respiri, immagina che ad ogni ispirazione un raggio di luce e di energia penetri nella tua mente e ti aiuti a vedere chiaro dentro di te e fuori di te. E via via che respiri, il tuo corpo diventa più pesante e rilassato, sempre più pesante e rilassato. Ad ogni ispirazione non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando, che stai entrando in uno stato di rilassamento sempre più profondo. E mentre ti rilassi sempre di più, il tuo respiro diventa calmo e regolare. Come calmo e regolare è il respiro del mare. Come calmo e regolare è il respiro dell'universo. E adesso, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri, portala la tua attenzione sulla persona che ti piace. Visualizzala. Visualizzala con gli occhi della mente. Come in uno schermo bianco davanti a te. Guardala attentamente. E mentre la guardi attentamente e sei rilassata e rilassato, ripeti dentro di te che hai la possibilità di vivere una storia d'amore con questa persona. Ripeti, io ho la possibilità di vivere una storia d'amore con e pronuncia il suo nome. Io ho la possibilità di vivere una storia d'amore con Ancora una volta, io ho la possibilità di vivere una storia d'amore con Continua a visualizzare questa persona Entra in uno stato di rilassamento ancora più profondo e ripeti dentro di te Io sono unito ma indipendente da E pronuncia il nome di questa persona Io sono unito ma indipendente da Per l'ultima volta Io sono unito ma indipendente da Rilassati ancora di più E mentre ti rilassa ancora di più il tuo respiro si fa calma e regolare Come calma e regolare è il respiro del mare Come calma e regolare è il respiro dell'universo Visualizza te questa persona E visualizza un cordone dorato che dal tuo cuore va al suo cuore E vi unisce indissolubilmente E vi unisce indissolubilmente Dal tuo cuore puoi attrarre questa persona tramite questo cordone questa corda di energia dorata La attrai La attiri sempre di più verso di te La attiri sempre di più verso di te fin tanto che i vostri corpi energetici si uniscono Fin tanto che i vostri corpi energetici si uniscono E adesso che hai visualizzato I vostri corpi energetici uniti Immagina una bolla di energia di colore bianco che avvolge completamente i vostri corpi energetici impedendogli di dissolversi e di disunirsi Questa bolla di energia di colore bianco avvolge completamente il tuo corpo energetico e quello della persona che ti piace e impedirà la disunione li manterrà uniti Questa bolla di luce di energia avvolge completamente i vostri corpi energetici mantenendogli uniti Visualizza tutto questo E via via che visualizzi tutto questo ti rilassa sempre di più Mantieni questa sensazione di unione con la persona che ti interessa con la persona che ti piace Quando hai mantenuto quest'unione fai tre respiri profondi trattenendo alcuni istanti l'aria e poi aspirandola fuori fino in fondo con la bocca e al termine muovi le braccia le gambe le spalle per finire apri dolcemente gli occhi sentendoti bene in armonia e in unione con la persona che ti interessa Bene questa meditazione può essere fatta tutte le volte che vuoi per rafforzare per attrarre la persona che ti piace che ti interessa Per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta la domanda va postata nei commenti ai video e se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici Ciao